Siracusa immobili in vendita del Comune via all'asta pubblica. Gli uffici del settore patrimonio in via Gargallo sono pronti a procedere all'asta pubblica per la vendita di alcuni dei beni facenti parte del piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio del Comune. Stamane dovrebbe avvenire la giudicazione per ciascun lotto fuori del concorrente che avrà presentato l'offerta più alta rispetto al prezzo posto a base d'asta. C'era tempo fino a ieri con le offerte in plico sigillato, le quali dovevano pervenire al protocollo generale del Comune entro le 12. L'atto di vendita doveva essere formalizzato entro i 120 giorni successivi. Nel dettaglio i beni e le base d'asta sono l'ex macello da 181.740 euro, un fabbricato 42.660 euro, un terreno 220.000 euro, l'ex custodia della carrozza del Senato 590.000 euro, la villa formosa Plats Grammar da 2 milioni di euro, un basso adiacente alla biblioteca comunale 440.000 euro. Le offerte in plico sigillato devono pervenire al protocollo generale del Comune entro le 12 del 16 dicembre. Nell'elenco redatto dal Comune lo scorso 29 ottobre non c'è l'ex ospedale di Ortigia dopo la ventata di polemiche sollevate dal Comitato Ortigia Sostenibile. Il Convento delle Cinque Piaghe, meglio conosciuto come ospedale delle Cinque Piaghe, un piccolo gelo di architettura neogotica, grazie al cambio di destinazione d'uso, doveva diventare un albergo a pochi metri da un altro albergo, di fronte ad un altro albergo circondato da almeno una ventina, solo in zona lungomare Alfea e Rio Roma, di bed and breakfast, residence, affittacamere e mini appartamenti riservati categoricamente a turisti. Di certo non se ne sentiva l'esigenza. Diverse le domande che il Comitato Ortigia Sostenibile intendeva rivolgere a chi stava per portare questa vicenda verso un'unica direzione. Domande ma anche proposte alternative. La prima, perché non considerare le ipotesi di concessione di lunga derata a privati in cambio della ristrutturazione a loro spese? E perché non sperimentare in questo caso il soccorso di fondi immobiliari di investimento etico? Si tratta di strumenti alternativi che sono stati dibattuti recentemente presso la nostra Università di Architettura, sperimentate e studiate da attenti urbanisti ed esperti di finanza immobiliare. Per quanto riguarda l'uso dell'immobile, il Comitato, che da quando è iniziata la sua attività è sempre stato sopportato da cittadini che vogliono proteggere e preservare il centro storico da attacchi indiscriminati contro la salvaguardia dei beni architettonici e culturali, suggerisce alcuni usi possibili. Si pensa ad esempio a una sala multimediale o per audizioni riservate a musicisti, sala congressi, area espositiva, museo, laboratori didattici, di scrittura, biblioteca, scuola superiore di turismo, foresterie per il comune e merce ormai rara, persino un piccolo cineteatro con annessa caffetteria e sala di lettura. Ancora, il Comitato chiedeva di fare chiarezza su alcuni punti, fra i quali l'attenimento delle autorizzazioni, dalle autorità preposte al vincolo storico-culturale e paesaggistico.